Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Pubblicato il decreto commissariale firmato nei giorni scorsi per l'applicazione della legge regionale sulla cannabis terapeutica in Abruzzo dal 2014. Il provvedimento disciplina le modalità di fornitura e rimborsabilità dei farmaci e dei preparati galenici a base di sostanze cannabinoidi per finalità terapeutiche ai cittadini che risiedono sul territorio della nostra regione. Nel documento si specifica che questo tipo di medicinali può essere prescritto e quindi rimborsato dal servizio sanitario della regione Abruzzo in questi casi. Riduzione del dolore associato a spasticità sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale con resistenza alle terapie convenzionali. Riduzione del dolore cronico con particolare riferimento al dolore neurogeno e con esclusione del dolore nella fibromialgia. In pazienti con resistenza ai trattamenti convenzionali. Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard. I trattamenti potranno essere prescritti solo da specialisti operanti nei centri per la sclerosi multipla o nelle unità di neurologia, terapia del dolore e cure palliative delle ASL regionali. Dopo che il tesoro la scorsa settimana aveva ottenuto da Bruxelles una nuova proroga per la cessione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife, un nuovo stop è arrivato da Francoforte e rischia di compromettere tutta l'operazione salvataggio delle quattro banche. Resta in campo Ubi Banca, unica pretendente rimasta, a cui però adesso la BCE chiede un aumento di capitale di 600 milioni, uno sforzo ritenuto inaccettabile dall'Istituto di Credito Bergamasco che sarebbe fermo a 400. Il Consiglio regionale abruzzese dice no al progetto di riqualificazione dell'autostrada A24 e A25 di strada dei parchi, dando mandato in pratica alla Presidente della Giunta regionale d'Alfonso a confrontarsi con il governo Renzi affinché la società del gruppo Toto predisponga un piano di interventi atti a garantire l'adeguamento antisismico dei viadotti esistenti. Dunque lavori sì, ma quelli strettamente necessari per la sicurezza stradale, no invece al maxiprogetto che anche il Ministero ritiene sproporzionato alle reali esigenze. Dopo mesi di confronto con il governo e il Parlamento è risultata vincente la strategia condivisa a livello regionale con l'Unione delle Provincie d'Italia e conclusa in sede di conferenza Stato-Città con il riparto delle risorse previste nella Legge di Stabilità 2016. Alle quattro province abruzzesi sono stati attribuiti circa 16 milioni di euro che consentiranno solo di poter chiudere i bilanci di previsione 2016, cosa altrimenti impossibile, e di poter operare fino alla fine dell'anno. Bambini rimasti senza pasto, seduti nei refettori senza niente in tavola. Parte nel peggiore dei modi e con notevoli disagi, così dicono le persone che in questo momento stanno protestando, il nuovo appalto per il servizio di refezione nelle scuole di Pescara. Dopo i ricorsi che hanno rallentato il bando, è partito il nuovo servizio mensa nelle scuole pescaresi. Nessun vantaggio organizzativo, a quanto pare, deriva dall'aggiudicazione alla stessa ditta che aveva la gestione negli anni precedenti. E la settimana di ritardo rispetto all'avvio dell'anno scolastico sembra poca cosa rispetto a quelli che sono i timori adesso dei genitori dei bambini. E veniamo agli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Ogni domani nella chiesa al cattedrale di San Cetteo a Pescara ci sarà l'incontro dei gruppi di preghiera di Padre Pio dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Santità e amare, questo è il tema della giornata di quest'anno, dell'incontro di quest'anno. La chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. Sono le parole di Papa Francesco nella Misericordia e Vultus su cui si rifletterà nell'occasione. Il programma prevede alle ore 16 l'accoglienza e l'adorazione eucaristica, alle ore 17 la meditazione sul tema La Chiesa Madre di Misericordia di Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro, direttore generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio e alle ore 18 la concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. Dieci comandamenti, le dieci parole della felicità e questo è il tema degli incontri in programma ogni martedì dal 4 ottobre alle 21 nella parrocchia di San Gabriele della Dolorata, Pescara, in via Riosparto 9. Per informazioni si può chiamare Don Valentino Iezzi al numero 347-79-79699. Oggi è mercoledì 5 ottobre. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Venanzio Marrone. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinata, sereno nel primo pomeriggio, coperto nel tardo pomeriggio e da coperto a nuvoloso in serata con temperature da 15 a 17 gradi e 20 da deboli a moderati. E nelle zone interne, cielo sereno al mattino e nel primo pomeriggio, coperto nel tardo pomeriggio e nuvoloso in serata con temperature da 11 a 15 gradi e 20 da deboli. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie per aver guardato il video.